VACOPED, il primo tutore che sostituisce completamente il cesso. La società tedesca Oped ha creato un sistema di tutore unico al mondo che permette di ridurre il tempo di convalescenza del paziente. Il segreto di questo prodotto brevettato consiste nelle microsfere, chiamate appunto vacosfere. Ogni tutore ha al suo interno migliaia di queste vacosfere ed ogni microsfera è in contatto con altre 12 microsfere che si moltiplicano in tre dimensioni. Con i prodotti tradizionali la forza viene trasmessa in modo lineare, ma con le vacosfere la forza viene trasmessa in modo tridimensionale, adattandosi al corpo del paziente. Per avere una regolare ripartizione del carico si crea un sistema vuoto. In questo modo il tutore si adatta perfettamente al piede di ogni paziente e fornisce al tempo stesso una protezione ottimale. Le sfere sono prive di irregolarità. Effettuando il vuoto all'interno del cuscino assumono perfettamente la forma della base del piede con il vantaggio di avere una regolare ripartizione del carico. È il corpo stesso a creare la forma del cuscino. La struttura esterna, tipo scarpone da sci, permette di avere la stessa stabilità di un gesso, ma allo stesso tempo dà la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, alla zona interessata per controllare la ferita, la medicazione e per l'igiene personale. L'applicazione è molto semplice. Si aprono le cinghie, tipo velcro, e si mette il piede all'interno del cuscino. Si chiude il cuscino inserendo la parte anteriore dello scarpone. Quindi si chiude il velcro secondo la sequenza indicata sul tutore. Alla fine si toglie aria con la pompetta fornita. Il vuoto viene raggiunto quando la pompa non può più essere schiacciata e a questo punto basta chiudere la valvola con il tappo. Esiste anche la possibilità di adattare il cuscino al polpaccio se necessario. C'è anche una versione di tutore che permette di fissare una certa angolazione del piede per il trattamento del tendine di Achille, cambiando semplicemente la suola del tutore. Di solito il tutore viene fissato ad un'angolazione di 30 gradi nell'immediato post-operatorio e dopo circa due settimane si cambia la regolazione a 15 gradi e poi a 0 gradi. In questo modo non è più necessario cambiare e rifare un altro gesso. Si cambia solamente l'angolazione del tutore tramite una suola. Seguendo le indicazioni del medico e la convalescenza del paziente il tutore potrà essere regolato in base al grado di mobilità permesso al paziente. Range of motion La lunghezza della suola del tutore può essere regolata. Il rivestimento interno del tutore è lavabile a 60 gradi in lavatrice. Per cambiare il rivestimento interno si toglie il cuscino interno con le microsfere e si usa il rivestimento di scorta fornito insieme al tutore. Il tutore può anche essere dotato di un sistema di sicurezza per impedire l'apertura del dispositivo da parte del paziente quando non autorizzato dal medico. Un ulteriore beneficio del tutore evacoped è il mantenimento della pulizia dell'arto che evita quel fastidioso senso di prurito che si ha altrimenti con il gesso. Il medico ha la possibilità di medicare e disinfettare la ferita chirurgica post-operatoria in qualsiasi momento tramite l'apertura dello scarponcino senza dover rompere il gesso. Si riducono anche i problemi di circolazione sistemica. La versatilità di questi prodotti consente il loro utilizzo per le fratture del piede e della caviglia per le rotture del tenere di Achille per le fratture della mano per il piede diabetico e per tante altre applicazioni. Uno dei vantaggi più grandi del tutore evacoped è che la riabilitazione può iniziare immediatamente. Si perde meno massa muscolare e così si riduce notevolmente il tempo di guarigione anche fino a tre settimane. La persona rientra prima al lavoro e ci sono meno complicanze rispetto al metodo tradizionale con gesso. Indicazioni Rottura tendine di Achille Rotture tendine Fratture metatarsali Alluce valgo Alluce rigido Artrodesi delle articolazioni delle dita Dita martello Fratture del piede e della caviglia Stabilizzazione post-operatoria in seguito a lesioni di tessuti molli Post-operatorio negli interventi ortopedici correttivi Vantaggi Adattamento rapido e reversibile senza compressioni tramite cuscino con vuoto d'aria Facile e rapido controllo della ferita Ottima radiotrasparenza Unico modello per la destra e per la sinistra in tre misure Immediata riabilitazione post-operatoria Traspirazione della pelle aumentando il comfort del paziente Immobilizzazione sicura del paziente Nessuna compressione del piede 50.000 pazienti ogni anno godono dei vantaggi di questo sistema Unico modello per la sinistra Unico modello per la sinistra